Sangue, grafene e 6G Amici di Playmaster Movie ben ritrovati con il Tecno Ribelle Vi ricordate i video virali all'inizio della campagna d'inoculazione 2021? Calamite, immobili, forchette e monetine ferme sul braccio come incollate nel punto esatto dell'iniezione Oppure le immagini del sangue coagulato e i TikTok degli indirizzi Mac Codice unifico di 48 bit per leggere i dispositivi Bluetooth generati dai vaccinati Invece che dagli smartphone, ve li ricordate? Certamente, così come le smentite istituzionali ve li ricorderete I vaccini vengono autorizzati solo dopo un'attenta valutazione Del profilo di sicurezza continuamente monitorato Anche dopo l'autorizzazione fonte Ministero della Salute Di certo ricorderete pure derisioni, offese e gli anatemi con sbufalate Un tanto al chilo profetizzate da chi, invece di porsi il dubbio Interrogativi e domande di fronte all'evidenza Alla ricerca scomoda e indipendente ha preferito il silenzio tombale Non è il caso di Franco Giovannini, Riccardo Benzi, Cipelli e Giampaolo Pisano Tre medici ricercatori che insieme al biologo Franco Trinca, recentemente scomparso Al microscopio ottico in campo scuro per capirne di più Hanno analizzato il sangue di 1.006 soggetti sintomatici dopo inoculazione con vaccino A mRNA di produzione Pfizer, BioNTech o Moderna 948 pari al 94% del totale si legge lo studio in pubblicazione su rivista scientifica Ma per noi disponibile in esclusiva Evidenziano a distanza media di un mese varie alterazioni dello stato di aggregazione degli eritrociti e la presenza nel sangue periferico di particelle di varia forma e dimensione di dubbia natura La maggior parte delle analisi si sono svolti al centro di biodiagnostica Giovannini di Mantua Un paio invece direttamente nel laboratorio di microscopia elettronica del dipartimento di chimica dell'università degli studi di Torino Risultato? Solo il 6% presentava un quadro ematologico del tutto normale Per gli altri invece particelle di grafene in mezzo a globuli rossi fortemente conglobati attorno alle particelle esogene ossido di grafene ed evidenti clusters di fibrina La strutturazione autoaggregante in modalità fibro tubulare dell'ossido di grafene voluminoso agglomerato di osseo di grafene e così via Sono state trovate strutture e sostanze assolutamente anomale conclude lo studio Mai si era osservato un così brusco cambiamento del sangue periferico dopo inoculo di vaccini con transizione da uno stato di perfetta normalità ad uno patologico Mai si era osservata la presenza di una così grande quantità di particelle nel sangue Apparentemente incompatibili con un normale flusso ematico del microcircolo e che si modificano nel tempo con fenomeni di autoaggregazione Per la presentazione dei dati a Sarzana la Spezia si è appena tenuto il convegno goccia a goccia Come fuori così dentro salute all'ultimo sangue Col pensiero finito alla quarta rivoluzione industriale al 6G, all'internet dei corpi, al corpo come piattaforma tecnologica per nanotecnologie impiantabili alla biotelenanomedicina come nuovo paradigma per riformare il concetto di salute e malattia e alla biologia molecolare con nanorobotica Queste le parole usate dal medico chirurgo Riccardo Benzi Cipelli, coordinatore della ricerca pioniera Nel sangue materiale presumibilmente grafene abbiamo tanti indizi coerenti e concordanti per affermarlo e ci sono brevetti per l'utilizzo dell'ossio di grafene come coadiuvante nei vaccini è un materiale tecnologicamente formidabile il problema è che il grafene è un tabù un po' come il 5G ma le nanotecnologie iniettabili sono state messe a punto già dal lontano 2005 molte riviste scientifiche ormai parlano di nanosensori intracorpo nanotecnologie create per autoassemblarsi al nostro interno per creare spontaneamente nano reti si parla del telefono cellulare come ponte per trasmettere il dato avete sentito bene? eppure ufficialmente era solo la lotta contro un maledetto virus mai isolato dal pipistrello cinese al mercato del pesce con furore l'agenzia europea per i medicinali ha analizzato relazioni che descrivono l'analisi di diverse fiale di vaccini anti covid-19 che lasciano intendere una presenza di grafene nei vaccini e ha concluso che i dati attualmente disponibili non dimostrano la presenza di grafene nei vaccini in questione la presenza di grafene o derivati del grafene nei vaccini non è quindi plausibile fonte commissione europea ecco appunto chi ci sta raccontando tutta un'altra storia? per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G salute ambiente geopolitica privacy transumanesimo controllo sociale libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale terra nuova edizioni oppure sul sito di aggiornamento naturale www.oasisana.com ricordandomi come questa pillola tecnoscettica è condivisa anche dalla casa del sole tv e sui canali di Come Don Quixote appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci Grazie per la visione! La mia famiglia è fondata di Guixote per la visione di Guixote e un caro saluto a tutti da gestione sui canali per la visione sui canali la mia famiglia è fondata del Tecno Ribelle Grazie a tutti.